Secondo me è molto incoraggiante il fatto che Boschi si incontra con Paolo Romano di Forza Italia e si lavora sulla riforma del Senato. È positivo che Grillo apre a Renzi, vedremo se viene fuori qualcosa di positivo sulla legge elettorale di questo incontro o meno. È positivo che Renzi parla con Salvini, cioè Renzi deve costruire la maggioranza che contiene sia governo sia opposizione per riforma istituzionale. Sono tre, legge elettorale che non è la Costituzione ma è importante per la stabilità del Paese, la riforma per me l'abolizione del Senato e poi la riforma del titolo quinto che secondo me non deve essere un accordo politico mirato a qualche gioco ma deve essere un accordo che riduce le spese delle regioni, i veri spreconi del Paese.